Eh, mi vedi? Sì. Eh, benvenuti a un nuovo video. Bro, metti la mia nuova vacanza, le belle vacanze. Eh, ma qui? Qua è te, uffi di papà. Qua c'è il mio video del premoto, qua un gocun. Ah, un gocunca. Qua, la mina. Ma sai, o te la metti bene? Ma andamela, o te la metti bene? Stiamo facendo il video. Eh, vediamo come viene. Dai, ciccio, parla. Qua, la tapota. Eh, la padella del mare. Mamma, mamma saluta. Qua. Ma, ok. Qua, la punca, la sottola, qua il tavolo, qua il tavolo, qua il tavolo, qua i biscotti, qua il mio terasso, Poi, la sottola, qua il mio avviso di colorato, con i macchine, il mare, con i miei metti, potranno vedi una pizza margherita. Eh, non si vede? Niente. Non si vede una pizza margherita, ciccio. Saluta i tuoi fans e chiedi un like. Ok, non è potente tu, a casa. Mi è piaciuto, non mi rinunpe il like.